cari amici di Bike2U ben ritrovati prosegue il Giro d'Italia e prosegue questa cavalcata di Tadej Pogaccia rimbetta alla classifica non speravamo tanto di più almeno io mi sono abbastanza esposto all'inizio di questo giro avevo detto che era molto molto complesso trovare un avversario in grado di poterlo battere mi sembra di poter dire dopo un po' di giorni che è difficile trovare anche un avversario credibile non solo qualcuno che lo possa battere ma andiamo con ordine ci eravamo lasciati la settimana passata con una vittoria strepitosa di Tadej a cronometro una cronometro di 40 km era da un po' di tempo che al Giro d'Italia non si vedeva una cronometro così lunga l'ha dominata il giorno dopo arrivo in salita a Prati di Tivo e qui perdonatemi sfocia come posso dire l'insensibilità dell'appassionato di ciclismo medio o mediocre hanno criticato Tadej perché erano attaccato a Prati di Tivo cioè una salita che i professionisti percorrono in diversi tratti a 25 km orari una salita per loro relativamente facile dove la conclusione è stata di fatto con una quindicina di corridori fino praticamente all'ultimo chilometro si sono selezionati di più nella volata finale più che nel resto della salita non era possibile attaccare in una salita come quella o comunque per guadagnare 10 o 15 secondi avrebbe dovuto fare uno sforzo incredibile Tadej da ragazzo intelligente qual è? Ha preferito aggiudicarsi la tappa allo sprint ha battuto Martinez e O'Connor O'Connor redivivo il nostro bravissimo Antonio Tiberi poi Thomas Rubio e facevano tutti parte del gruppo di testa così come Domenico Pozzovivo e Lorenzo Fortunato per rimanere ai nostri colori la classifica è cambiata di poco di fatto Tadej ha aumentato il suo vantaggio in classifica 2.40 sul secondo Martinez e quasi 3 minuti su Geraint Thomas un redivivo Ben O'Connor in quarta posizione buone notizie per gli italiani perché dopo la cronometro e l'arrivo in salita Antonio Tiberi ha scalato diverse posizioni in generale sesto secondo dei giovani le spalle di Uitebrux e Lorenzo Fortunato settimo quindi abbastanza ben piazzati italiani Zana quattordicesimo e posto vivo quindicesimo quindi un po' di tricolore anche nella classifica generale da lì il giorno dopo una tappa classica per velocisti una tappa che ha visto Olaf Koi che aveva fallito a onore del vero due o tre tentativi di come possiamo dire di volata vincente si arrivava Napoli in una bellissima cornice con un circuito finale anche con la salita di Procida che ha movimentato la tappa probabilmente l'ha resa anche un po' più lineare ma Olaf Koi ha messo in riga la maglia ciclamino di Jonathan Milan e in terza posizione Molano della UAE poi Dainese in quarta posizione Vendrame e Ballerini ottavo e nono e Velasco tredicesimo a far da corollario a un po' di azzurro in questa in questa classifica di tappa la generale non cambia di molto 2.40 Martinez 2.58 Thomas Tiberi sesto Fortunato settimo è rimasto praticamente tutto invariato è crollato un po' Steinhauser che era tra i primi 15 diciamo così praticamente un po' a sorpresa onor del vero quindi Olaf Koi ha dimostrato di essere uno dei migliori velocisti del Giro d'Italia andando avanti però con le giornate il giorno dopo una tappa abbastanza movimentata che ha visto una lotta in famiglia perché di fatto era segnato come un arrivo in salita abbastanza complesso anche quello di Bocca della Selva da Pompei tra l'altro una partenza con uno scenario incredibile per chi non è italiano e vede nel mondo quelle immagini può già con quell'antipasto capire quante sono le bellezze che annovera il nostro paese dicevamo della vittoria in famiglia perché Valentin Parent Petr ha staccato tutti componenti di una ampia fuga che si è mano a mano assottigliata salendo verso Bocca della Selva un bel ritorno su Tratnik nell'ultimo chilometro e Parent Petr ha staccato sia Tratnik e Romain Bardet che è rinvenuto a sua volta sul corridore sloveno andandosi a classificare in seconda posizione a 29 secondi dal francese della Decathlon Tratnik è riuscito a conservare comunque la sua bella terza posizione poi un po' di azzurro con Baggioli in quarta posizione Zana e Postovivo in settima e ottava che hanno guadagnato qualche minuto così come Conci poi a tre minuti e quattornici Ben O'Connor è stato autore di una volata veramente interessante con tutti gli italiani più forti da fortunato a Tiberi che continua in questa sua scalata nella classifica generale dicevamo di Parent Petr che poi ha vinto la tappa ma questo è il fratello che celebra il successo questo è Aurelien e questo invece Valentin quindi una vittoria veramente in famiglia per i due corridori della Decathlon la Mondiale una squadra che sta facendo vedere belle cose perché in tutte le tappe è sempre presente fuga salita o volata sempre un rappresentante a proposito di volata da segnalare che in questa tappa non è partito Olaf Koi quindi molta sfortuna anche per questo Giro d'Italia il cui start list quality score sta diminuendo tappa dopo tappa e dopo aver rinunciato a corridori importantissimi tra cui Koi dal punto di vista degli sprint era uno dei più accreditati anche la maglia bianca altro corridore della Wisma Lisebike Oidebrooks deve mollare l'ottava da qualche giorno con una forma influenzale con un virus e purtroppo ha dovuto anche lui abdicare non è partito da Valfortore e quindi la tappa che porterà il corridore da Francavilla al mare vede un'assenza abbastanza importante ed una quality score che scende a 721 questa quality score lo dico per quelli che magari non hanno seguito dall'inizio le nostre puntate ai nostri incontri quality score è un parametro che concede un punteggio ai primi 10 del ranking mondiale un punteggio leggermente più basso a quelli che vanno dal 10 al 30 e scalando via discorrendo e il totale di questo quality score fa 721 al momento attuale con i ritiri che ci sono stati per farvi capire era a stento di 800 un po' di meno all'inizio del Giro d'Italia mediamente il Tour de France parte con 1.600 questa è una cosa che io sottolineo sempre e a me fa anche un po' di spiacere sottolineare perché onestamente non è la cosa che mi piace far notare di più però quando parliamo di livello medio un po' più basso rispetto ad altre gare questa è la prova matematica di ciò che dico non è solo un'impressione è provata anche dai fatti nonostante tutto ci sono dei velocisti bravissimi anche con l'abbandono di Coe infatti la tappa di oggi ha visto la maglia ciclamino di Jonathan Milan svettare con un volatone veramente imperiale difficilissimo perché gli ultimi tre chilometri erano in rettilineo col vento contro quindi era difficile mantenere la posizione perché tutti potevano rimontare da dietro e i compagni di Milan non riuscivano a tenerlo con facilità davanti dopodiché non si poteva partire troppo lunghi perché con il vento contrario la volata è per forza più breve e chi viene da dietro è molto avvantaggiato però stando dietro si rischia quindi difficilissimo riuscire a fare questa volata ma nonostante tutto Milan ha preceduto i velocisti più bravi Merlier Groves l'italiano Leonardi bravo Giovanni poi Pitti che comincia a scalare un po' di posizioni negli ordini d'arrivo Molano Bampoppel Gaviria Barhaus Angel Koski quindi nei primi dieci vedete quanti velocisti ci sono due italiani comunque nei primi cinque e vediamo cinque italiani i primi quindici perché Zanoncello undicesimo Fiorelli tredicesimo e trentin quindicesimo sono apparsi nell'ordine d'arrivo quindi è importantissimo avere corridori che in queste tappe riescono a farsi vedere perché da un lato ci sono le grandi montagne l'ecronometro i percorsi misti per gli abituai delle fughe ma le volate sono l'essenza del giro da che mondo è mondo il velocista è uno dei protagonisti principali in questi grandi giri la classifica non è cambiata se non per due secondini vedete guadagnati da Ghiarain Thomas a un traguardo volante quindi Pogacar con 2.40 su Martinez 2.56 su Thomas O'Connor che si è piazzato nelle parti alte della classifica con 3.39 Antonio Tiberi che vedete ha scalato di una posizione grazie all'abbandono di Uitebrus ma soprattutto è entrato tra i primi 5 ma con la maglia bianca che è il suo obiettivo primario Bardet grazie alla fuga di ieri è risalito in sesta posizione mantengono un piazzamento onorevolissimo gli italiani Fortunato e Zana Rubio e Ariusman concludono la classifica dei primi 10 sarà quindi interessante vedere di qui alla prossima cronometro come decideranno i corridori di affrontare le tappe sono tappe abbastanza facili quella di Fanno è leggermente ondulata qualche strappo potrebbe tagliare fuori qualche velocista o dare coraggio agli amanti degli attacchi o delle fughe la Filipe per esempio ha già dichiarato che andrà all'attacco e che ci proverà lo vediamo in crescita speriamo di vedere il bicampione del mondo tornare perlomeno a lasciare traccia in questo giro d'Italia tappa molto facile invece da Riccione a 100 completamente pianeggiante la classica tappa per velocisti quindi facile per vedere la rivolata ma il giro avrà un appendice molto molto interessante a cronometro perché sabato torneremo un'altra volta a parlare di cronometro e il tracciato che ci sarà in provincia di Brescia nella tappa di sabato è comunque una trentina di chilometri e una trentina di chilometri sono tanti per una crono al giro d'Italia una cronometro non completamente pianeggiante vedete per esattezza 31 km e 200 da Castiglione degli Stivieri a Desenzano del Garda un percorso molto bello dal punto di vista paesaggistico un percorso ondulato che visto così sembra pianeggiante ma tra l'altro vi consiglierei di scaricare la traccia ai nostri amici cicloamatori ed andarlo a fare perché è veramente immerso nel verde ed è un continuo saliscendi e per un cicloamatore che viaggia a 30 km orari è veramente fantastico più complicata la faccenda dovendo viaggiare a 50 km orari ci sarà da rilanciare continuamente la velocità e credo che l'abilità nella guida della bicicletta possa fare un po' di differenza in questa tappa di qui il motivo anche per cui ai ragazzi più giovani io consiglio sempre parlo dei dilettanti a D23 consiglio sempre di fare almeno un allenamento alla settimana o ogni due settimane al massimo con la bicicletta da cronometro non tanto alle velocità da cronometro ai 50 o ai 60 all'ora ma proprio compiere un allenamento anche leggero 50 70 80 km con la bicicletta da cronometro proprio per imparare a guidarla e chiaramente lo si impara in discesa dove la velocità è più alta senza spendere tante energie e ci si dovrebbe addestrare così sembra incredibile ma in questo ciclismo così già sperato dove il marginal gain è determinante ci sono ancora tanti corridori che non sono bravi a cronometro qualcuno perché è molto giovane e nelle categorie under 23 e unione ha praticato poco questa disciplina o qualcuno che si è scoperto uomo da corsa a tappe in età maggiore e quindi ha dovuto inventarsi un po' guidatore da bicicletta da cronometro per esempio Wingergaard da questo punto di vista è bravissimo perché nonostante abbia iniziato a correre tardi ad alto livello è uno dei più bravi a guidare le biciclette da cronometro quindi un punto in più per questo grandissimo corridore e tra l'altro sui social sono apparse immagini di Wingergaard che è ritornato ad allenarsi e quindi tutti noi speriamo di vedere dei duelli che per la classifica generale speriamo siano un po' più consistenti che qui al Giro d'Italia dove se la squadra di Tadej Pogacar lo riuscirà a mantenere fuori dai problemi come bene o male sta facendo anche con qualche lacuna fino adesso credo che la storia di questo Giro d'Italia sia per quello che riguarda la generale abbastanza segnata ma l'avevamo detto nella tappa di presentazione del Giro però tutto sommato lo spettacolo è di un buon livello per un motivo o per l'altro quindi venere sabato prossimo cronometro importantissima altri 30 chilometri prevedo che in classifica generale scaverà un ulteriore solco Tadej poi inizieranno le montagne le montagne vere ma di queste parleremo al prossimo appuntamento ciao a tutti ciao a tutti